www.theotherlife.net slash supernatural Mi chiamo Matteo, il mio nickname sul forum è Matteo Tempo Il sito l'ho scoperto perché quando ho cominciato a seguire Telefilm ho iniziato a cercare maggiori informazioni su questo prodotto Il sito è il primo e unico sito italiano dedicato a Telefilm È ricco di qualsiasi tipo di informazione un fan cerca Dalle guide episodi, alle curiosità sui personaggi, ai dati di ascolto, alle anticipazioni sulle prossime puntate e sulle prossime stagioni Ci sentiamo di essere stati i primi per esempio ad avere tutti gli spoiler sulla quinta stagione Le storie che vengono narrate, le leggende metropolitane principalmente americane ma nel corso delle varie stagioni anche poi internazionali Il rapporto che c'è tra i fratelli perché è vero che è una serie fantascientifica ma è molto basata sulla realtà Il terzo motivo personalmente è l'ambientazione, a me personalmente ricorda molto X-Files Essere un fan su internet, cioè di un telefilm significa dedicare parecchio tempo Diciamo che è come un secondo lavoro, nel weekend diventa il primo lavoro Per il secondo anno consecutivo siamo riusciti ad arrivare tra i primi dieci finalisti al Telefilm Festival come fan club del cuore L'anno scorso siamo arrivati, abbiamo vinto il terzo premio E quest'anno speriamo di riuscire ad arrivare ancora tra i primi test e non un gradino più in alto Li ringrazio io a nome di tutto lo staff di Supernatural Legend perché il sito in fondo è tre anni online Sono poco più di tre anni, tre anni e due mesi E nel corso dei tre anni i fan sono stati assolutamente unici e ci hanno supportato e seguito costantemente Grazie a tutti